Grazie Giazza Cosa vuoi fare? La metto un po' il carico di vento No vado a venire tutti i cari Qui la prendo a stato E poi la faccio un po' di vento E poi la faccio un po' di vento Non lo so perché la volete merda Ma perché ci si beveva? E' molto bella come questa beveva Si si tratta di secondi e di minuti L'altra domenica noi siamo arrivati Erano cinque parti con un mene così E quattro parti per i peanti E noi siamo arrivati in fine delle piani A distanza di nove minuti dall'ultima con la mela colorata Vedi perché sono fatta Nonostante la partenza E nonostante Non essendoci stata la luminella Abbiamo perso il tempo Perché la scelcavamo E' una boa Segnalazione non so se è fondata la Si è metallica Un cono metallico traporato Ma non ha l'acqua da su E' un po' di rinforzare E' liberare la sceltafabrica Ora la dobbiamo usare qui Quindi qui le maniglie Dove ne sta io Questa la teniamo libera Ma che scorre Ma un pochino aiuta eh Non lo preparerò Io voglio E' un pochino Si Allora, allasca un po' la ranta, perché al dito lì non ce la mette più la maglia. Io poggio un po', eh. Non c'è il finestro che piscino le mani, ma si fa il temporale da su. Perfetto, basta. Ok. Ok. Michele, levami al di mezza di cavallo. Sotto? Sotto? Ah! Vabbè, 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 vabbè. Sotto? 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 Una bombata famosa, arrivederci. Sotto? 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 Go, vai, goto? Sotto? Poi a questo punto, possiamo staccare lìt extra? il gioco, l'ultima, quello qua, con la pizzeranda, poi con la pizzeranda, faccio andare e la riporto. Questa è solo per a split, non vuoi capire. Questa è sempre un pizzerone, però se vuoi andare avanti, non vuoi capire. Lì c'è qualcosa che si può recuperare, quella lì, il mare. Fatti capire dove è. E rischia di andare nell'elica? No, no, è giocato. E pesa? Non capisco più che... Ah, ah sì. Ma dove fai? Eh, va davanti. Ma no, scelta quella che va. Sì, sì, ma è l'acqua. Ma era troppo l'acqua. Quella lì, Dani, se lo staccate da lì, sui due fossili, ecco, lui... Da recuperare. E noi possiamo recuperare le due scine. Questa. 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 E questa. Questa. Gira di sotto. E poi lo staccolo di un esatto costitore di tirare questo. Così. Fai accompagnato. Sì, sì. Questa. Posso fare con lì? Sì. Sì. Questa. Fai accompagnato. ho detto di no, lo vedo eh ho detto? quando puoi la molli finisce l'acqua no, vado io davanti vado a prenderla davanti capito? o lo vado a prenderla davanti dici sempre che no, a cavolo ma si, tu stavi andando avanti senza tirarla infatti cascava giù eh no, vedrai no no, perché la stavo quando lì andavamo ma lì era la scata lì era la scata, non era bloccata se la tiravi prima di la via va bene, va bene, va bene se la tiravi? se la tiravi? si se la tiravi? lo cazà lì lo cazà lì lo cazà lì va bene 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti